e ben ragazzi io sono dark shortage nel secondo giorno di backstage del no limits oggi abbiamo fatto un po di scene così e faccio questa intro qui per dirvi un po di cose però la prima cosa è sincero allora questi backstage qua abbiamo programmato finalmente quando usciranno uscirà uno backstage alla settimana perché noi facciamo le riprese sabato domenica quindi poi durante la settimana vedrete il backstage fino a quando non uscirà il film mail trader comunque vi diciamo tutto sulla pagina facebook quindi mi raccomando seguiteci la trovate qua e appunto cliccate e iscrivetevi alla pagina facebook troverete i clip sia sul mio canale che è qua iscrivetevi e sia su questo canale pari settimo cinema oppure se questo backstage qua state guardando sul mio canale qua c'è il canale del settimo cinema iscrivetevi e appunto questi backstage qua usciranno settimanalmente e però tra un po' non usciranno più sul canale di darkshadow oggi hanno solamente sul settimo cinema quindi mi raccomando se siete su darkshadow guarda iscrivetevi a settimocinema e questo qua dai ma è questo qua dai ma è questo qua abbiamo registrato alcune scene fuori non potete stare tanto di backstage adesso però no altre scene qui dentro magari potrete altre backstage ma scrivo devi riparlo allora iniziamo con il fare del 9 ora qui abbiamo onda libera onda libera attenzione onda gratis iscrivetevi al mio canale per vedere i suoi video con lui lui è invocato invocato le riprese che sta studiando il copio no lui non è invocato lui è adesso non è adesso non è lo schiavo cinese no lui è il segretario è una dedizione che sta compilando le cose mentre questo che è lo schiavo cinese non vi auguro mai si dovrebbe compilare delle schiavizzazioni perchè è una merda schiave? ah non vi faccio vedere poi qui abbiamo ecco oggi è lei che mi capa poi qui abbiamo abbiamo gente qui si sta cambiando il protagonista come sempre poi in teoria il coprotagonista perchè oggi non fa l'immocato ma fa il coprotagonista poi ci ho dato invocato si deve si dovrebbe cambiare anche lui ma deve studiare no 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 io non studio poi qui ci sembra onda libera ah lui è una onda libera poi dopo i video di call of duty ha deciso di arorarsi nell'isis e quindi benvenuti nell'isis non serve zoom a mette a fuoco ciao mette a fuoco l'ho ucciso io poi ragazzi voi non lo sapete nel verità diamond oggi lo vedrete nel blog di dark shadow che trovate qua cliccate qua lo trovate qua lo trovate sull'accendino lui oggi è entrato nelle difese come un dio e poi ovviamente e poi ovviamente ha iniziato ha iniziato a fare il piromone perchè lui ha un istinto al piromone comunque guardate il blog di dark shadow no la devo rifare no e comunque niente guardate il blog adesso ci rompono dei pezzi e niente bella ok no eh minchia non devi fare l'incerta devi fare così qui io ho il mocho ok tu rinchi ok tu rinchi ok 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 ahahahah mi fa paura qui ma non sono nulla ma smettila non ridere non è facile fare ok no lui mi dice non è vero altro vino vino birro ok no no basta le braccia delle tieni attaccate al culo senti io ho un bambino autistico in classe che in realtà non è autistico però gli diciamo che è autistica perchè durante le lezioni va così NO NON VA BENE senti qui il mio compagno di banco mette tutte le bollettine rosse in un angolo del banco con la bocca le solleva e le sputa nell'altro angolo dai 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 che mi viene su ok va bene aaaaaaaah dai 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 puoi annotare poi che tanto dai e non ci vai in cucina un po' canta o oh ma ce la fate è noi che faranno adesso il programma ho fatto rotare una parola e si stai scoperto a dire dai cosa che hanno fatto? ti stai capiti? Mi consola il fatto che anche noi malarite in strategia e cominciamo a ridere Ebbene ragazzi, questo backstage è finito Qui abbiamo Diamond, ci stiamo rilassando Che si è finalmente scottato Perché voi dovete capire che è talmente più roba E' fuino Vabbè, robe Si è finalmente scottato e così impara Abbiamo finito le riprese di oggi Devo dire che sono robe Abbiamo fatto già tre fogli Abbiamo già tre fogli di produzione Con Chuck sbagliati, però nei dettagli Eccoci qua ragazzi, vabbè, adesso stiamo andando via Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi Praticamente oggi, come se avete lui, è il tecnico Il pacchino, quello che fa tutto Quello che monta le cose, all'aiuto del regista Il più figlio che c'è Vabbè ragazzi, oggi Oggi voi non lo sapete, ma lui festeggia il suo compleanno E gli indovinate Mentre festeggia il suo compleanno Noi facciamo fare il pacchino di tutte le cose Il maiale, quindi Il giorno del compleanno di Matteo Li facciamo fare il pacchino di tutte le cose Che roba Vabbè Hashtag i registi privilegiati Hashtag pesce da pizza Qui vedrete in sopravversione il pesce pizza Che è il pesce che mi mangerò stasera Hashtag pesce da lenza Niente, ci vediamo nel prossimo backstage E niente, lasciatevi, iscrivetevi Che bello ragazzi 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 Che bello ragazzi